Da domani in tutta la regione partiranno i saldi invernali e le previsioni sugli acquisti sono ottimistiche. Secondo uno studio di ConfCommercio, ogni famiglia spenderà in media 346 euro, con un aumento medio del 3% rispetto allo scorso anno. Sale anche il numero delle persone che approfitteranno delle svendite dopo le feste, pari al 55% della popolazione, una quota di oltre 4 punti superiore rispetto a quella registrata per la partenza dei saldi 2015. I capi d'abbigliamento continuano a rappresentare i prodotti più acquistati nel corso della stagione dei saldi, in crescita l'interesse anche verso le calzature, gli accessori e la biancheria intima. Al tempo stesso sembra che i consumatori stiano ricominciando a dare maggiore importanza alla qualità del prodotto rispetto al prezzo. La quota di coloro che scelgono i prodotti in base al costo risulta infatti in flessione dell'1,5% rispetto al 2015. Sul fronte dei commercianti, per massimizzare le entrate, il 76,9% delle imprese del commercio al dettaglio interpellato si è detto favorevole alla proposta di Federmoda Italia di posticipare la data di avvio dei saldi a fine gennaio a partire dal 2017. Allo stesso modo, la maggior parte delle imprese non è d'accordo con la liberalizzazione delle vendite promozionali prima dei saldi, pratica molto diffusa da qualche anno. In vista del via agli sconti, è dunque bene ricordare che i negozianti sono obbligati a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale, mentre per non indurre il consumatore in errore, le merci offerte in saldo devono essere disposte in maniera inequivocabilmente distinta da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie.